Portiamo a bordo il futuro perché la giornata di oggi testimonia un ecosistema sano, produttivo, fatto di made in Italy, fatto di eccellenze e grande specializzazione nel costruire le navi più belle e più prestigiose al mondo. Partecipiamo a diversi workshop tecnici di sviluppo prodotto insieme con Fincantieri, con i nostri laboratori per sviluppare prodotti sempre più innovativi, performanti, di lunga durata e molto resistenti. Andiamo a studiare come queste nuove tecnologie possono essere inserite nei processi e nei sistemi di Fincantieri e una volta studiato e progettato si realizzano e si inseriscono in tutto quello che è il core di Fincantieri, dalla nave ai sistemi invece di cantieristica. Per esempio integriamo tantissime etnie, tante persone che collaborano e coesistono in un sistema assolutamente virtuoso al fine di portare avanti quelle che sono le sinergie lavorative che insistono in un cantiero e in una nave per dare il più possibile un prodotto sempre più competitivo ed eccellente.